presentazione dei giovanissimi 2009 2010 del marina siamo qui al campo del cristo ragazzi tutti schierati ragazzi dai un volontario per far due parole chi viene prima di tutto ti devi presentare per il pubblico di grosseto sport piacere mi chiamo leonardo balducci ruolo ruolo difensore centrale da quanti anni è a marina il primo anno secondo anno a marina allora visto il secondo anno ti chiedo subito come vedi il gruppo e la squadra ma vedo ora il gruppo si è compattato e la squadra la vedo bene speriamo che quest'anno in classifica si arriva non dico primi ma a metà allora quindi ambizione di coppa uefa di europa league va bene sì sì a noi ci va bene perfetto ti ringrazio in bocca al lupo a lei grazie dopo i giovanissimi gli allievi 2007 2008 del marina schierati per poi la foto di rito ragazzi anche a voi vi chiedo se c'è un volontario che vuole dire due cose se avete già il fratto un nome ma chi tocca allora il tutto ti devi presentare allora sono caprile balducci ma balducci era anche quello di prima eh siamo fratelli ah tutta la famiglia balducci oggi mi tocca tutta la famiglia balducci vai perfetto ruolo terzino quanti anni a marina? 9 porca miseria ci sei riusciuto qua eh praticamente sono da quando c'era a calcio che sono io quindi meglio di te non me lo puoi dire come vedi il gruppo e questo nuovo settore giovanile? vedo molto bene vedo una grande crescita della squadra e di tutto il settore giovanile e marina e cerchiamo di dare il meglio e poi si vedrà in campionato come andremo dai via fammi un pronostio per il campionato cosa prevedi? cosa speri? il sperare io darsi il terzo e il quarto posto un pronostio mio sul quinto vai perfetto ti ringrazio in bocca al lupo vai grazie a te brava Aldu brava Aldu brava Aldu brava Aldu ultima presentazione la juniores del marina calcio tutta schierata con dirigenti e allenatore in fondo mischiato con i suoi ragazzi anche qui chiedo se avete fatto un'estrazione o c'è un volontario che vuole parlare? ditemi voi il grande Cassani il capitano quindi il viene eh? il grande Cassani il nostro papo buonasera buonasera come a tutti prima di tutto presentazione e ruolo sono Cassani il Francesco e gioco esterno di centro campo al marina calcio perfetto noi già ci conosciamo per trascorsi insieme Francesco come vedi il gruppo e cosa speri per questa stagione? ma siamo un gruppo molto unito e speriamo di toglierci qualche soddisfazione per questo campionato e preparazione già iniziata preparazione già iniziata e siamo ancora in fase di lupo cercheremo di prima al meglio vai perfetto sono convolti tutti per la stessa causa questo è importante poi io senza i genitori non non riesco a fare grosse cose perché è bene che siano involti anche loro in tutte le cose queste feste e altre cose durante il campionato durante l'inverno non saranno sempre tempi ci sarà bassi e alti ma questo è da tutte le parti comunque non mi voglio più diciamo prolungare vi ringrazio ancora di cuore di vero cuore e basta così grazie a tutti